Ciao, qui è Joe di Soluzione Attrazione. Nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è, ciao, ho dei dubbi sull'uso dello sguardo prima di conoscere una ragazza e durante l'interazione. Ad esempio, con una sconosciuta, se ci guardiamo insieme, pertanto, è sbagliato girarsi? Bisogna aspettare che distorga lo sguardo prima lei? Perché non vorrei che passi come minaccioso. Allora, no, quando tu guardi una sconosciuta e lei ricambia il tuo sguardo, deve essere lei la prima a distorgliere lo sguardo. L'ho spiegato anche da altre parti, ma te lo rispiego perché fondamentalmente il fatto che la donna distorga lo sguardo è un gesto di sottomissione da parte sua. E quindi è chiaro per come funziona la natura che tu non devi essere la parte sottomessa alla donna, perché altrimenti ovviamente perderai attrazione. Ok? Questo è chiaro e lineare. Detto questo, no, non ti devi girare per lo stesso motivo, semmai devi aspettare che sia lei a girarsi e quindi a distorgliere lo sguardo. E quindi sì, devi aspettare che distorga lo sguardo prima lei. In ogni caso tu dici, io non vorrei passare come minaccioso. Da quello che è il tuo sistema di mindset, di credenze, opinioni, insomma quello che è, da come poni la tua domanda, fondamentalmente dubito molto fortemente che tu possa passare come minaccioso. Ma è semplicemente un qualcosa che sta nella tua testa, perché essendo che non sei minaccioso, ma fondamentalmente in questo momento ti trovi ancora in una fase in cui ti caghi in mano, perdonami il termine, molto difficilmente passerai come minaccioso. Magari passerai come nervoso, magari passerai per qualcos'altro, ma non minaccioso. A meno che non ci siano degli elementi, in quella che è la tua subcomunicazione, che in questo momento non posso adottare, che sono però un'assoluta particolarità, ok? Detto questo, tu vuoi mantenere l'e-contact finché non è lei la prima a romperlo e questo è quanto, per quanto riguarda, il primo e-contact che tu avrai con la ragazza. Quando inizi a parlarle, subito vuoi avere un e-contact molto diretto. Diversamente ad un certo punto di quella che è l'interazione, vorrai darle meno ai contact, perché non vuoi far sì che a lei sembri che tutto il tuo focus è su di lei, magari soprattutto in una situazione in cui lei non sta facendo esattamente la stessa cosa, e quindi non vuoi ritrovarti in questa situazione in cui la tua subcomunicazione subcomunica per l'appunto che tu sei la persona che insegue. Però questo è un argomento un po' più complesso e ne parlo nello specifico, in un modulo specifico, in un modulo di tecniche di seduzioni avanzate, quindi se ti interessa approfondirlo ti lascio il link in descrizione. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.